Grazie a tutti. La bellissima Tiziana Rivale, vincitrice di Sanremo 83 e cantautore romano Renato Monzi. Partiamo per Cracovia. Siete emozionati? Certo, siamo qui, io è Tiziana Rivale, tra poco avrà l'imbarco. Noi siamo pronti, siamo prontissimi. Le nostre canzoni ormai sono lì, che aspettano soltanto di essere accadute. No, sentiamo anche insolito le parti tutti. Siamo arrivando e vi appelliamo numerosi. Grazie, ciao. Ciao, ciao. E sono molto, molto onorata di presentarvi per il pubblico polacco, al Grande Teatro di Zabrze. Ciao, ciao. All'aeroporto di Cracovia, io, Tiziana Rivale e Renato. Stiamo aspettando Renato quando scende dall'aereo. Abbiamo le prove generali prima del concetto, a Zabrze in Polonia. La provata di Cracovia, io, Tiziana Rivale. Allaeroporto di Cracovia, io, Tiziana Rivale, io, Tiziana Rivale, io, Tiziana Rivale, io, Tiziana Rivale. Siamo alle prove, prima dello spettacolo. in questo momento, in questo momento, in questo momento, sta provando Tiziana Rivale. L'amore è l'amore, è l'amore, è l'isperanza. Dobra, dobra! Giante il nome di Cracovia, io, Tiziana Rivale, io, Tiziana Rivale, io, Tiziana Rivale. Le parmone, il male, un basso da sole. Ormone, la mia ballata. Guardi la musica, ti scogli al cuore. Ciò lo abbiamo voluto, cosa sarà? Ciò non è il tuo amore, un basso da sole. Senza parola e in poi va. Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì No, 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 no La mente va, vola via libera, e quanta strada, riflettore l'iniciare, io mi accorgo a me, chiuso in quel sapore, la città intorno a me, in carità, ma la pezza per sé, è via vicina, trappico e treversini, ma la mente va, sempre la sua figlia, è via vicina, trappico e treversini, ma la mente va, sempre la sua figlia, e il segno ormai, già è stato lì, sai, le cose con i giorni, la mente va, sempre la mente va, sempre la mente va, sempre la mente va, che si fia spiega è la sua figlia, la mente va, sempre la gente va, Grazie a tutti. Grazie a tutti.